Per la prima volta in Italia un artista, Paola Michela Mineo, svela il mondo della detenzione attenuata dell'ICAM, l'istituto custodia attenuata per madre, in una mostra in cui l'arte racconta la dignità della condizione di madre in un modo nuovo di concepire la rieducazione. L'esposizione resterà aperta al pubblico allo spazio Overdan fino al 5 ottobre. Info e orari sul sito della provincia. Sì, provincia di Milano proprio oggi ospita una mostra interessantissima, in pronte siorate, che vede la partecipazione e le realizzazioni di Paola Michela Mineo, un artista che basa la sua arte, le sue performance sulla touch art, sull'arte del toccare, sull'arte del riprodurre le forme, sull'arte di riportare o trasmettere delle forti emozioni che fanno parte della sfera interiore, delle detenute che sono state le autrici, le attrici, le protagoniste di queste performance. Abbiamo voluto aiutare Paola nella sua attività artistica, consentendogli ovviamente di entrare in ICAM, dove è andata a raccogliere queste storie, queste storie molto toccanti, queste storie molto forti, delle detenute, che hanno poi dato luogo a degli allestimenti, delle performance, che sono visibili qui in Spazio Oberdan da noi per qualche settimana. La provincia ha deciso di ospitare questo mio progetto, che dura da due anni e che si è svolto come punto principale del suo racconto all'interno dell'ICAM, l'istituto a custodia attenuata per madri con prole. Io ho portato la mia tecnica artistica all'interno di questo istituto, sono stata lì dentro per circa sei mesi, tutti i giorni, quasi un anno in maniera un pochino più dilatata, e ho voluto che queste donne si raccontassero a me quando più si sentivano pronte di farlo, quindi una relazione empatica che in qualche modo mi ha permesso poi di raccogliere le loro storie. Questa mostra ospita sei installazioni che vede protagoniste ognuna di loro su quello che appunto è un tema che ho individuato, e poi nell'ultima installazione invece c'è il racconto di un lavoro collettivo che è stato svolto tra le detenute madri, ospiti dell'ICAM e i loro educatori. Impronte sforate è una mostra di Paola Minio che restituisce un'esperienza che ha vissuto dentro l'ICAM, che è l'istituto detenzione attenuata per madri. Paola ha creato con le detenute un rapporto speciale in cui l'arte è diventata comunicazione, ha permesso un contatto e una visione altra, ha aperto delle finestre. La mostra in qualche maniera vuole restituire e aprire la possibilità a un pubblico di godere di questa esperienza stessa e viverne una nuova visitandola. Grazie.